Il crollo degli incassi ai tavoli da gioco e il furto avvenuto alle slot machine dimostrano come la scelta del Comune di Sanremo di togliere i controllori comunali e ausiliari sia stata scellerata. Queste sono le dichiarazioni giunte in redazione attraverso una nota stampa dal CSA Regioni e Autonomie Locali. Invitiamo l'amministrazione comunale, sottolinea il coordinatore aziendale Riccardo Faraldi, al ripristino immediato dei controllori ausiliari a garanzia della regolarità del gioco e quale forma di prevenzione di possibili fatti illeciti. L'avere assunto solo due controllori per tre anni non è sufficiente a garantire un adeguato controllo nella sala dei tavoli da gioco e nella sala slot machine. Quest'ultima in particolare non ci risulta sottoposta a nessun controllo costante da parte del Corpo Comunale di Controllo. È abbandonata. Nei prossimi mesi, conclude infine il CSA, andranno in pensione due controllori. E quindi è ulteriormente importante ripristinare un'attività di controllo comunale stabile, che alla fine sicuramente costa meno delle perdite che si stanno registrando e che si registreranno. I trend storici infatti dimostrano che nei periodi di assenza di adeguati controlli sono sempre aumentate le perdite.